Musica Ciao, sono qua con il mister De Gaggi e Mattia De Gaggi Grande vittoria, ditemi qualcosa a voi della partita Abbiamo vinto 12, meritatamente Una squadra che magari erano molto più giovani Non era l'avversario, però erano più giovani sicuramente Poi hanno fatto una gran bella partita, ne hanno viste altre Poi ha segnato, posso dire, ha segnato pure uno che non segnava dal 1960 con il numero 5 Tra l'altro anche dei gol, triangolazioni Ci sto dicendo, hanno fatto una gran bella partita Veramente, ho giocato molto bene Alla grande, dai, complimenti Grazie Alla prossima, ciao, arrivederci